Ladri scatenati, pronti anche a avvissare il colpo ai danni della stessa abitazione. A distanza di soli tre giorni, ieri sera intorno alle 22, i malviventi sono tornati a Bicco Pietrangelo de Matteis, nel centro di Manocalzati, provando a saccheggiare di nuovo l'appartamento svaliggiato sabato. Questa volta però la banda di ladri è stata avvistata dai figli delle vittime del primo ride. I due ragazzi hanno lanciato prontamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, che si sono messi sulle tracce degli individui che, vedendosi scoperti, si sono dati alla fuga per le campagne a ridosso del Bicco, da dove erano giunti a piedi e prendosi un barco nella fitta vegetazione. I residenti di Bicco Pietrangelo de Matteis si dicono terrorizzati. La testimonianza di Maurizio e della moglie ancora scossi per il furto subito sabato sera, di nuovo finiti nel mirino dei ladri. Ieri sera intorno alle 9.30 abbiamo sentito dei rumori al di qua del terreno, tra il cannito in quella zona. I miei ragazzi si sono affacciati alla finestra, hanno aperto la tapparella e hanno visto persone che fuggivano, scappavano, scendendo giù per il terreno. Quanti ne erano? Lei ha detto che fossero due o tre persone, da come si muovevano, cioè dai rumori che sentivano un due o tre persone. Ma hanno colpito altre volte qua? Sì, hanno colpito anche noi. Sabato scorso? Sabato scorso noi e l'altra signora accanto. Cosa hanno preso? Dalla mia abitazione hanno asportato in denaro circa 500 euro, poi degli oggetti in oro dei ragazzi che utilizzavano quotidianamente che avevano in casa. Voi non stavate in casa? No, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Cioè tensione e paura? Mia figlia è terrorizzata proprio, cioè mia figlia non vuole stare più a casa da sola, sta con la luce accesa, cioè lei è proprio terrorizzata. Ieri sera sono tornati qua, sempre in questa... Sì, sono tornati sempre qua da sotto. I miei figli erano appena saliti sopra. Erano appena saliti, hanno sentito l'elicottero e hanno aperto la finestra per vedere di cosa si trattasse, perché c'è questo allarmismo, c'è la paura. E quindi aprendo la finestra, aprendo la tapparella hanno visto un paio di persone scappare. E poi hanno chiamato noi e poi hanno chiamato subito i carabinieri che sono... Che sono intervenuti, diciamo, molto rapidamente ieri sera. Grazie. Grazie.